buongiorno a tutti come avevo promesso qualche tempo fa niente rifacciamo un breve video sbrocco per dire cose inutili inutili inutile scontate però almeno adesso ho capito bene fino in fondo fino in fondo perché sono inutili e scontate sono anni che lo dico sono anni che analizzo ma anche chi ragiona continuamente su queste cose anche chi riflette su queste cose ha poi comunque delle illuminazioni perché tu metti insieme dei pezzi no metti insieme un pezzo metti insieme un'illuminazione metti insieme un'analisi metti insieme un dato e dici 2 più 24 però poi quel 4 dopo un po di tempo quel 4 che ripetevi da un po di tempo ti ti prende un altro senso cioè ti rendi conto mettendo insieme altri pezzi cioè vedendo dove scritta quella riga 2 più 24 in un certo contesto di numeri messe a cazzo e sparati a caso eccetera dove 2 più 2 fa 5 18 128 che tanto ormai non cambia niente e quindi quel 4 ha un un altro prende un altro peso un'altra evidenza bene quindi adesso io ho capito bene ho capito bene fino in fondo meglio meglio di prima perché è del tutto inutile fare analisi economico finanziarie realistiche razionali in italia ed è evidente purtroppo è assolutamente la logica conseguenza di una certa situazione che quella che poi determina principalmente il nostro declino a 30 anni in accelerazione ebbene partiamo solo un attimino da due dati due dati usate che deve un attimino di aranciata di succo d'aranco allora come dico da tempo a me quello che irrita di questo nuovo governo del cambiamento di sto cazzo e che è un peggioramento perfino rispetto a prima perché io lo sapete benissimo che ho sempre criticato i governi precedenti prima il governo berlusconi poi i governi del pd in parte anche il governo monti c'è il governo monti l'ha attaccato pesantemente perché tutti e non facevano se non magari solo parzialmente quello che secondo me andrebbe fatto in italia che però non si può fare perché contro il consenso della massa e contro consenso della maggioranza e purtroppo in certi casi bisogna andare contro il consenso della maggioranza in maniera coraggiosa perché poi dopo quella scelta che tu hai fatto economica quella scelta che tu hai fatto economica avrà un riscontro positivo ma più avanti ma nel breve può essere anche negativa bene io ho criticato tutti ma quello che mi fa totalmente totalmente imbufalire di questo governo e che si presenta con il cambiamento che si presenta come se fossero dei santi dei santarellini e italiani grazie a un marketing veramente molto attento e geniale da parte sia di salvini che di del movimento 5 stelle credono assolutamente che questo governo continua avere un consenso enorme credo che questo governo possa essere il cambiamento bene quello che mi fa imbufalire e che mentono mentono spudoratamente di una maniera molto molto più spudorata di prima io lo sapete che sono un analista indipendente queste cose non le posso sopportare io non sopporto la menzogna non sopporto l'ignoranza non sopporto l'essere delle capre e menzognere pure e questa cosa qua da chiunque venga non importa se da m5s o da chiunque altro bene questi stanno sommando l'essere delle capre assolute come spiego più ho spiegato più volte delle capre ignoranti assolute per esempio dal lato delle m5s arrivate grazie a quella bominio della piattaforma russo di cui potremmo parlarne ora cercare di fare analisi sociologiche politiche e anche complottiste che ha fatto venire su della gente che sono delle capre ma non è che sono in sedi per sé cattivi sono cittadini con curriculum molto limitati o totalmente fallimentari che dovevano andare a fare altro semplicemente altro perché il tuo curriculum la tua esperienza la tua conoscenza deve essere congraco al tuo tipo di lavoro questa cosa avveniva anche prima in politica abbiamo avuto delle totali capre ma non al livello di questo non siamo comunque al livello di queste come ho già spiegato più volte quindi non è vero che il governo del cambiamento è meglio e peggio e dal peggio non c'è mai fine e gli esempi sono innumerevoli sono innumerevoli perché come spiegavo facciamo l'esempio arriva la viceministra all'economia castelli allora una capra assoluta con una laurea breve in economia che doveva andare giustamente senza nessuna offesa perché ogni lavoro è degno a fare la contabile di un'associazione di periferia e va bene così avrebbe dato il suo contributo importante alla società si è trovata con quattro voti del cazzo alle cliccare chissà dove e adesso dopo aver sparato caprate continue da tutte le parti da capra assoluta quale è eppure comunque impaurita e inorgoglita contemporaneamente sono due cose si trova un ruolo che non è il suo non sa che cazzo dire molte volte allora aggredisce il ministro padoan l'ex ministro padoan che gli spiega come giustamente lo spread prima o poi impatta anche sui mutui sul credit crunch sui presidi bancari e tante altre cose sono cose che non c'è bisogno di avere il curriculum enorme che aveva il ministro padoan non solo di studiorum ma anche lavorativo sono normali questa gradice dice questo lo dice lei poi i fatti dopo un po' smentiscono completamente quello che ha detto la castelli e giustamente il prezzo di mutuo inizia a salire e c'è un principio di credit crunch come spoiler da molti dati che però il 90 per cento di voi manco capisce e poi torniamo arriveremo al problema finale quindi viene smentita anche sulla seconda cazzata che è andata a scrivere dicendo che il pmi manufatturiero pmi sarebbe risalito a 49 una figata siamo meglio la germania e vada a fanculo a germania che noi andiamo meglio di loro scrive queste bestialità pensando che l'indice pmi cioè l'indice dei direttori d'acquisto ok purchase manager index lo confonde con un fantomatico indice pmi cioè delle piccole e medie imprese no ok e poi dopo fa un ragionamento assurdo dove uno non sa che 50 è il limite della parità dove sopra cresci sotto ti contrai e due la germania è fondamentale per il nostro pmi perché comunque per comunque per la nostra economia perché abbiamo un rapporto di interpendenza enorme soprattutto al nord al nord est enorme quindi se la germania va male sono anche cazzi nostri spara una serie di bestialate assurde e non c'è nessun problema puoi anche farlo fosse una deputata qualunque facessi il tuo lavoro di contabile nell'associazione xy ma se il vice ministro dell'economia che ha un peso importante per prendere decisioni economiche e non sai di cosa stai parlando e oltre non sapere di quello che stai parlando sei anche orgogliona e sei anche impaurita perché ti trovi una situazione che vorrei vedere io cioè o sei completamente uno completamente fuori testa ha perso ogni contatto che in realtà perché i corazzieri gli fanno un saluto quando entrare dice minchia cazzo prima non avevo neanche soldi per il parcheggio in cazzo adesso mi trovo qua allora ho perso completamente la dimensione e lì ne parleremo secondo me è il caso di gigino oppure oppure paura e avendo paura aggredici e spari cazzate allora io quello che voglio solo spiegare qui siamo di fronte al vice ministro dell'economia che non sa non sa assolutamente cosa sta dicendo e lo fa pure con un'estrema arroganza secondo me dettata da paura e da tensione perché la cosa che non va non è la castelli in sé non era lei non ha fatto niente di male lei ci ha provato e ha trovato questa roba assurda della piattaforma rousseau che l'ha portato in un posto che non è il suo non è il suo ed era lo ripeto anche prima un problema pensate che come ha confessato maratin che il parlamentare scusate bevo un po d'aranciata di arancia che il parlamentare non so quali ruoli aveva del pd ma comunque estremamente esperto di economia indubbiamente basta sentirlo bene maratin si può condividere non condividere sulle posizioni sull'euro quello che volete chi se ne frega per lui è veramente esperto era un ricercatore mi fa l'università di parma non mi ricordo e comunque è anche sincero se vedete dei video delle cose in j in giro e sapete giudicarle eccetera martin ha confessato che la stessa confusione l'indice pmi purchase manager index di market che tra l'altro secondo me è molto utile perché va bene non ve lo so spiegare se non ci confondiamo comunque unice molto utile che una specie di sondaggio che però poi replica molto bene il pil la produzione industriale c'è bisogna saperlo leggere saperlo studiare poi da sei in sé di per sé non vale niente i dati macroeconomici qua la gente non vuole capire che da soli non servono un cazzo non servono un dato macroeconomico non servono unice pmi da solo non serve una produzione industriale due mesi bisogna fare il contesto bisogna mettere insieme sette otto dati ma la gente vuole robe semplici ormai tutte robe semplici vuole due robe in due righe battute un meme un meme del cazzo non è così non funziona così l'economia è complessa è collegata alla società collegata alla politica tante altre cose comunque adesso perso il filo cose che dicevo dell'indice pmi ah sì malattin allora praticamente malattin ci confessa un'intervista sincera dove anche il mitico renzi non sapeva cosa fosse questo indice pmi perché non sapeva cosa fosse e lo confondeva anche lui con le piccole e medie imprese però aveva malattin che glielo spiegava ma io quello che vorrei semplicemente spiegare che renzi era un grande cazzaro berlusconi era grande cazzaro su molte cose ma ci sono delle differenze sostanziali da oggi e oggi è peggio è molto peggio perché renzi era presidente del consiglio è arrivato lì dopo una certa esperienza politica comunque di un lungo periodo perché è importante essere comunque professionisti della politica questa è la finzione principale del movimento 5 stelle di pensare che arriva lì il cittadino e si autogoverna e come il selvaggio ignorante di volter arriva lì e si autogoverna meglio perché più ignorante è più è onesto più si governa sono cazzate cazzate assolute la gente la stessa castelli ha ammesso tempo dopo che fa e abbiamo fatto degli errori perché non sapevamo assolutamente queste cose le stiamo imparando ma le stiamo imparando sto cazzo lo dico bene il microfono sto cazzo sto cazzo perché tu lo stai imparando come vice ministro dell'economia sulle nostre spalle ma stiamo scherzando tu dovevi già saperle prima e poi poi al limite testare delle politiche diverse più o meno diverse per quanto i limiti ormai sono strutturali eccetera e decidere che cosa fare o che cosa non fare ma non che tu stai imparando l'abc l'abc perché trovi troppo proiettato in un posto che non è il tuo dovevi già saperlo prima la selezione doveva essere nel momento 5 stelle se vuole essere veramente in cambiamento doveva essere meritocratica non le capre non le capre non i poveretti presi lì chissà come che si trovano a giocare una partita più grande di loro quindi quello che voglio dire e che renzi poteva anche non sapere cos'era l'indice pmi però aveva una certa visione politica condivisibile oppure no ma poi aveva padoan che ha un curriculum 18 chilometri come ministro dell'economia non era il vice ministro dell'economia lo capite coordinava il consiglio dei ministri ascoltava padoan ascoltava maratin e gli diceva senti maratin ma ho detto una cazzata e gli altri lo spiegava non era una come la castelli che si ritiene una tecnica di economia una tecnica lei si ritiene una tecnica una che ne sa ma ci rendiamo conto ed è una capra una capra potrebbe fare la contabile di un'agenzia di viaggi senza nessuna offesa per quel lavoro ma semplicemente deve essere congruo al tuo curriculum la tua esperienza non che ti trovi proiettato non ha senso che in qualunque lavoro normale anche per andare a lavorare in un negozio una panetteria in una panetteria come si può pensare che sei una panetteria e ti chiedono un curriculum mentre invece per andare a fare il vice ministro dell'economia questo curriculum non conta l'esperienza non conta il curriculum non conta non conta l'esperienza amatoia niente non conta niente ma cos'è ma noi andiamo a giocare ai bussolotti stiamo facendo politiche economiche che alterano completamente l'andamento industriale di un paese delle imprese delle persone che lavorano dei libri professionisti di tutti stiamo parlando di cose che possono alterare lo spread il sistema bancario il sistema finanziario tu sei in quella posizione e sei una capra e sei una capra cioè io lo trovo veramente e poi ci lamentiamo di quelli prima ma adesso al di là della capra e poi arriviamo al discorso finale quello che dico è che oltre capra sono anche mentitori seriali non capisci mai se ci fanno o ci sono e prendiamo il caso di gigino cioè si diceva che renzi renzi oggi se va su una chat dovunque sia e va su un social non può dire beh che arrivano mille e cinquecento persone a insultarlo a sangue a minacciarlo di morte lui e la moglie ok questo è il famoso scandalo dei fenomeni dei profili fake di cui ho già parlato ed è una roba che non caga nessuno ed è importantissima poi vi metterò il link dopo del mio post nel blog bene e va bene era un cazzaro assolutamente certo dire stai sereno tutti gli hashtag ma era un principiante in confronto a gigino non principiante in confronto ai meme che tira fuori il gigino e le m5l e m5s e il blog delle stelle che sono delle cose devastanti sono menzogne forzature della realtà oppure parti di capre ignoranti che non sanno di cosa stanno parlando e vengono regolarmente smentite quindici giorni dopo dei dati economici massimo e poi non ve la prendete con loro non ve la prendete ma perché perché non sputate in faccia gigino con questo sorrisino di merda dalla mattina alla sera come sputate in faccia a renzi a tutti gli altri ma cosa è successo come ha fatto questo marketing politico a alterarvi lo spirito critico in questa maniera è una capra di maio una capra ha rovinato il movimento che aveva anche delle buone intenzioni all'inizio non so come ha fatto arrivare lì c'ho dei sospetti ma non li tiro fuori che rischio ancora delle querele comunque è finito lì eccetera eccetera e oltre a essere una capra ignorante è un mentitore seriale cazzaro che renzi deve andare a scuola da lui e i fatti sono fondamentali vengono fuori ma non puoi tirare fuori un meme lo vedete quando la mia bacchetta facebook ma ve la rimetto dicendo l'italia come un treno ripartirà verso la ripresa siamo la locomotiva d'europa eccetera perché perché siamo usciti dopo due mesi dalla recessione tecnica con un rimbalzino del cazzo ed eravamo gli unici in tutta europa a essere finiti in recessione gli unici gli unici con l'indice pmi che non sono le piccole e medie imprese che in contrazione da nove mesi nel manufatturiero non puoi fare una pippa mentale sulla produzione industriale dicendo siamo la locomotiva d'europa meglio della germania perché hai fatto due mesi due mesi di rimbalzo dell'indice di produzione industriale adesso non mi ricordo i dati sarà 0 9 1 4 eccetera dopo che sei crollato del 3 4 per cento nei tre mesi prima e cosa succede dopo un rimbalzo di gennaio febbraio come vi diciamo noi persone per bene che non contano menzogne menzogne di nessun colore di nessun colore chiaro perché ci vuole la verità dobbiamo aprire gli occhi dobbiamo vedere la realtà fino a quando la realtà non viene vista in faccia non supereremo mai la crisi che non è mai veramente esplosa per varie ragioni che spiegherò dopo e non supereremo mai il declino trentennale perché non vogliamo guardare in faccia la realtà e continuiamo a ascoltare i politici che ci contano le peggiori balle sempre peggiori allora arriva questo qua a scrivere le balle a parlare di ripartiamo come un treno verso il cambiamento siamo la locomotiva d'europa e viene fuori adesso l'istat col dato di produzione industriale di marzo come vi ho anticipato vi metterò il link andate a controllare ragazzi non abbiamo ancora dato di marzo abbiamo solo gennaio febbraio e restocchi nei magazzini anche lì sarebbe da fare un discorso lungo vabbè tanto è difficile spiegare le cose in maniera più complessa perché è facile mettere uno slogan il meme eccetera e invece è più complicato spiegare cos'è il restocchi in tutto il resto comunque allora viene fuori meno 0,9 di produzione industriale lo scorso mese e meno adesso a livello annuale a livello annualizzato siamo a meno 1,4 ma dove cazzo è la locomotiva gigino ma dove cazzo è il tuo meme dove scrivi che se andiamo come un treno verso il cambiamento vergognati più di renzi vergognati più di berlusconi fate schifo fate schifo perché fanno schifo gli italiani che danno credo a queste bestie e date sempre credito delle bestie mai alla verità solo a quello che volete sentirvi dire solo al bias cognitivo come raccontavo cioè avere quella immagine che mi piace in quel momento senza voler vedere la realtà in faccia è una vergogna c'è già meno 0,9 e questo è questo a fare non so come dire meme blog delle stelle che sembra la prova dell'istituto luce messi insieme peggio di renzi altro che stai sereno vaffanculo altro che stai sereno gigino in confronto era un principiante lo capite che era un principiante renzi e io non dico che il pd non è la soluzione ma vedete le stronzate che continua a dire il montalbano leninista lì quello nuovo segretario del pd che ha detto che ringrazia l'urso perché senza l'urso non ci sarebbero stati i partiti di sinistra progressivi e grazie al cazzo 20 milioni di morti di stalin solo di stalin ma vaffanculo e quella sarebbe la soluzione poi redditi minimi cazzate se la giocano sulle cazzate e tutte queste robe qua poi non solo crolla il dato delle vendite al dettaglio cioè crollano le vendite al dettaglio adesso è uscito il dato adesso va bene che un mese ma comunque è una contotendenza cioè venite a raccontare che quota 100 manda la gente di professionamento che ha i soldi da spendere venite a dire che tre se ogni uno che va in pensione in pensione pagato da un sistema ponzi insostenibile ne arrivano tre invece il contrario praticamente ne arriva uno su tre o uno su cinque cioè tu licenzi cinque arriva un nuovo posto di lavoro e le aziende godono perché si levano dal cazzo gente che costa cara che costa cara cioè perché sono 50 e 60 anni quindi a stipendio massimo si prendono quattro stronzi di giovani al posto di 20 stronzi fatti fuori vanno più sull'export e riaggiustano i loro bilanci e ringraziano e questi l'hanno presentato come un regalo al popolo e allora vai a fare dici che ridà i soldi agli italiani con la quota 100 mi dai i soldi agli italiani con le rdc il reddito di cittadinanza che poi viene fuori a mille limiti che una presa per il culo che ti arrivano 200 euro se va bene che ti ci spazi il culo il culo io adesso devo andare alla dentista mi costa 2.500 euro solo il dentista mi sono cozzato perché non l'ho vista era arrivato in ritardo una multa a 350 euro volete che vada avanti lo sapete quanto costa la vita 200 euro sta roba alzerà i consumi e il pil dello 0 5 in i x me e le vendita del taglio crollano ma perché crollano perché la gente si rende conto che non ha più soldi in tasca che viene presa per il culo credito di cittadinanza è una presa per il culo è una presa per il culo tutto assistenzialismo una spesa corrente che non serve a un cazzo che non fa crescere l'economia quasi niente e fra crescere il deficit e il debito cioè riesce a fare più deficit e debito senza far crescere l'economia ma non ci riusciva neanche un pirla patentato uno che ha battuto la testa perché se io faccio deficit ma se io faccio deficit e faccio spesa e faccio spesa eh come si anticiclica no se sono il rallentamento almeno il pil dovrebbe crescere poi mi aumenta la spesa pubblica pace l'ho pagata l'ho pagata perché ogni punto di pil costa un sacco di debito e sempre di più ormai con queste teorie neo kinesiane del cazzo però che tanto piacciono e vanno di moda gli investimenti pubblici e che tutte robe così e non funziona più così per una storia lunga che non sto a spiegare comunque e 10 perfino a non crescere scendono le vendite d'italio scendono i consumi interni l'economia rimbalzicchia per l'export per l'export perché praticamente le 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 imprese sono fatte un culo così sono ristrutturate e riescono ormai ad avere un mercato soprattutto fuori dall'italia che gli permetta di sopravvivere e quelle che possono si delocalizzano ecco e queste di qui di nuovo balle seriali abbiamo messo in tasca i soldi agli italiani abbiamo fatto questo abbiamo fatto l'altro guardate riparte l'economia siamo usciti dalla recessione ma 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 non si può mentire in questa maniera signori non si può mentire in questa maniera soprattutto con quel sorrisino del cazzo stampato in faccia a di maio e poi io vorrei solo io vi chiedo una cosa siete incazzati con renzi di sta sul cazzo con quella faccia da scemo che aveva da mister bim da mister bim che si metteva a dirvi stai sereno l'italia riparte gli 80 euro esci di casa risputato in faccia fate lo stesso con gigino e con maggiore virulenza perché peggio di renzi e peggio di renzi molto peggio solo che hanno usato un marketing politico che in questo momento va per la maggiore e la gente dissociata dalla realtà vuole sentirsi dire sono usciti tutti gli nati economici che dimostrano non dico che l'italia crolla va puttana dico che non è locomotiva che non si può parlare di mega riprese tutte le cazzate i meme di questi cialtroni di questi cialtroni assoluti mentitori seriali peggio di quelli prima quindi oggi abbiamo un serio problema politico non c'è non c'è come vi dico da tempo un partito da votare oggi votabile che porti all'inversione del declino perché nel momento in cui presentasse il suo programma andrebbe al 3 per cento se domenatina poi immaginate improvvisamente ci fosse veramente una delle riforme importanti delle proposte importanti dei partiti di oggi invece pensare al 30 35 25 vanno al 5 e adesso arriviamo al punto fondamentale del perché vanno al 5 vanno al 5 perché c'è un problema fondamentale come dico a tempo in italia sette persone su due e su dieci come dico io un po esagerando sono mantenute o comunque sono a tutela massima cioè i sette persone su dieci che sono pensionati statali persone di nuclei familiari mantenuti da altri hanno pensioni straordinarie cose così sono dati ve li metto vi ho già messi mille volte sono dimostrabili 3 su 10 sono la parte produttiva che continua in maniera sempre più sostenibile a sostenere i 7 su 10 allora è chiaro ed evidente e logico che di fronte a 7 su 10 che dell'economia se ne possono sbattere il cazzo il cazzo se il pil fa più due più uno meno uno non gliene frega niente nulla a loro arriva lo stesso la pensione lo stipendio statale fanno gli insegnanti che è un lavoro degnissimo e massima di conoscenza gli arriva lo stipendi 8 eccetera gli arriva la sua pensione arriva uno che gli dice che il problema sono 600 mila clandestini che poi diventano 90 mila i clandestini arriva un altro che gli dice che il problema sono i grembiolini per i bambini perché così sono tutti uguali sì grembiolini arriva un altro che gli dice che il problema è dare maggiore diritto a 10 mila riders in italia che vanno in bicicletta a consegnare tre pizze deliveroo e queste robe qua e poi mediamente da dati in tre sei mesi cambiano lavoro quindi è solo un piccolo arrotondamento poi trovo un altro lavoro sì aiutiamo i riders perché tutti cattivi imprenditori capitalisti che vogliono sfruttare eccetera eccetera cioè siamo veramente ridicolo si parla di cose che non stanno in cielo né in terra e le piste ciclabili e gretina e riscaldamento globale e tutte queste robe qua che sei sicuro secondo la gretina che fra x anni siamo tutti morti e robe di questo genere non c'è nessuno in italia la maggior parte degli italiani che non gliene fotta un cazzo ed una minchia dello spread della finanza del credit crunch del fatto che l'economia vada più 2 meno 2 del fatto che gigino menta spudratamente peggio di renzi sull'economia e dica cose false oppure non capendo in un cazzo non gliene frega un cazzo parlano di ciclopiste pensano che consumare troppo sia brutto penso che andare in macchina sia cattivo e che bisogna bloccare tutte le macchine tutto in bici poi se perdi 160 mila posti di lavoro di in italia di indotto collegati chi se ne frega perché loro non hanno problemi economici cioè gli hanno ma piccolini cazzo mi mancano 10 euro per fare la spesa vabbè invece che l'insalata a prendo quella b che un po marcetta e risparmio questi sono i problemi economici della maggior parte di questa gente e se sono peggiori e se sono peggiori perché sono anche peggiori e quindi faticano veramente arrivare a fine mese non è che pensano non è che pensano che sia un problema l'economia cioè che l'economia deve crescere per dargli più soldi no pensano che bisogna andare a pigliare i soldi da qualche parte che sia fare più deficit con l'europa che sia fare una patrimoniale che in ricchi brutti cattivi che poi sono solo benestanti con due case o cose di questo genere ci pensano in questa maniera vivono fuori dal mondo quindi abbiamo cioè capite che io mi scandalizzo su cose e dico ma come mai la gente non si scandalizza come me se non una piccola minoranza ma non è possibile è uscito tria ieri a dire che non si può fare più deficit per abbassare abbassare le tasse dobbiamo trovare altre vie ma come ma come io mi sono incazzato come un beduino come un beduino perché ho detto ma scusate avete fatto deficit alla cazzo per spesa corrente per fare il reddito di cittadinanza che sta funzionando alla cazzo come era prevedibile per fare l'assistenzialismo vuoto nel nulla che non sta facendo crescere neanche i consumi nulla niente per fare questo regalo ai pensionati già in un sistema insostenibile che rischia di fare da qua a x anni 50 100 miliardi di buco con la quota 100 avete buttato nel cesso deficit e adesso paduan scusate e adesso tria viene a dire che non si può fare più deficit per abbassare le tasse che sono praticamente al record mondiale in italia cioè ma ma a me viene da spaccare il computer spaccare il microfono cioè mi viene da incazzato la gente se ne sbatte il cazzo non si scandalizza come me perché perché non si scandalizza come me di fronte a uno che ti dice che non può non può fare più deficit per abbassare le tasse che c'è una ragione decente per fare deficit e per farselo ripagare proprio quello di abbassare le tasse di uno stato bloccato dalle tasse in una maniera assurda eccetera e poi non parliamo della burocrazia che poi un altro discorso di cui non parla nessuno e non parliamo del federalismo che un altro discorso di cui non parla più nessuno del vero federalismo con autonomie fiscali nessuno parla di queste cose io mi scandalizzo e la gente se ne sbatte il cazzo parla dei botti di capodanno che il suo cane si spaventa per due ore un'ora ma anzi 50 minuti è il grande scandalo e parlano di sta roba qua e stiamo a parlare 18 ore del salone del libro di torino perché hanno cacciato via quei cazzo di fascisti di casa faun perché loro hanno fatto apologia di reato apologia di fascismo e poi dopo ai mezzo salone del libro di gente che inneggia a chavez a maduro che alla maglietta del ceghevara crede crede nel comunismo invitavano toni negri le bier invitano i peggio criminali liberali totalitari del comunismo ma non vanno bene quelle del fascismo che sono entrambe ideologie i liberali totalitari andrebbero tutte e due rigettate ma solo che nel lavaggio del cervello il comunismo è il bene continua a essere il bene pur con tutte le prove realistiche contro il comunismo reale che hanno distrutto paesi interi hanno ucciso persone distrutto la libertà distrutto la proprietà privata hanno fatto un macello un macello siamo di fronte a queste cose qua lo capite non si può fare deficit per abbassare le tasse la gente 75 per cento pare che oggi voglia la patrimoniale bisogna andare a prendere i soldi ricchi i ricchi ma che ricchi e persone che si sono fatto un culo così hanno messo da parte i risparmi che sono l'ultima salvezza d'italia cosa gli voglia a pigliare sta roba per poi buttare in eccesso con un sistema totalmente inefficiente che ha la sabbia nel motore ma sentite guardate comunque concludo il mio piccolo video sbrocco era solo per dire che ormai è evidente perché io mi scandalizzo insieme a quattro gatti anzi sono otto per questioni che io trovo scandalose sull'economia sulla finanza sulla menzogna sul mentire sulla produzione industriale sull'occupazione sulle cose che poi vengono smentite poco dopo ebbene la risposta è questa la maggior parte degli italiani oggi può permettersi di sbattasene il cazzo il cazzo perché comunque gli arriva uno stipendio gli arriva una pensione gli arriva qualcosa e poi a una formazione culturale devastante idealistica dissociata da realtà catto fascio comunista statalista anticonsumista anti anti no global mix di robe da perdenti totali mentre il mondo va con un treno eccetera contraria la tecnologia l'innovazione tecnologica luddista c'è tutto non manca niente un mondo di dell'accadia dove si torna indietro quando pensando che non so le peri cadevano in mano cavalcavi jaguari che facciano le fusa proprio del genere vuoi tornare un mondo pre industriale fantasy cose di questo genere dove l'irredditor 11 11 volte in meno con l'attuale cioè allora bene divertitevi fate il vostro downshifting farete la fame dura durissima quella vera e il problema finale concludo così e purtroppo molti non ci saranno già più in questo video e che quello che non sta funzionando in italia e che il declino è troppo lento e strutturale è irreversibile ma troppo lento per varie ragioni perché l'italia continuava una forza pazzesca di gente che lavora e produce ricchezza anche se sono pochi se sono pochi sono riusciti a rinnovarsi e continuano a mantenere un sacco di gente ai cinque regioni che mantengono tutta l'italia ai tutta l'italia cinque regioni ai questi distretti fortissimi e oltre tutto questo è ancora la comfort zone generazioni precedenti della ricchezza fino a quando non ve l'ha aggredita definitivamente anche questa quindi declino viene molto rallentato avessimo avuto una crisi seria come quella in spagnola che ha avuto un crollo immobiliare mai visto nella sua storia come quella dell'irranda che ha avuto un crollo bancario immobiliare come mai visto come quella del portogallo come quella della grecia che oggi combinazione stanno crescendo tutte a stecca hanno fatto riforme importante hanno preso la vera crisi nel senso greco di occasioni di cambiamento una crisi che ti porta giù e ti dice devo fare qualcosa di veramente importante e oggi stanno crescendo siamo l'unico pigs rimasto non ce n'è più nessuno loro hanno avuto vere crisi rapide veloci e hanno saputo rispondere politicamente come struttura con strutture più elastiche con un sacco di difetti ma comunque hanno saputo in qualche maniera rispondere abbastanza bene poi magari saranno in crisi nuova fra cinque anni chi dice niente l'italia è l'unica che non si è schiodata di un millimetro è andata solo avanti a tirare a campare di assistenzialismo delle solite ricette fallimentari e anzi l'aumenta ancora di più credendo ancora di più a menzogne di gente come di gino peggio di renzi ok o di quello di berlusconi che volete ok la crisi è troppo lenta il declino è troppo lento e si continua a fare come la ranna bollita che finisce dentro l'acqua si scalda poco alle volte e si fa bollire senza neanche accorgersene e la maggior parte di questa cosa qua è perché come ripeto 7 su 10 vengono comunque mantenuti non hanno nessuna cognizione dell'economia perché un'impresa immediatamente se l'economia va in crisi lo vede subito e deve subito dare una risposta invece la maggior parte degli italiani lo vedono dopo 5-10 anni e intanto ciucciano i soldi a qualcun altro e quindi se ne accorgeranno sempre troppo tardi e intanto votano e intanto seguono le cazzate e intanto spingono per le ricette politiche economiche sbagliate e quindi è questo che è evidente non funziona crisi troppo lenta declino troppo lento cazzi nostri cazzi di tutti per adesso soprattutto cazzi della parte produttiva è più valida del paese che costate andarsene a fare questo e fare l'altro a breve saranno cazzi anche di una buona parte della restante popolazione che continua a vivere nel suo limbo senza poter potendosi perfino permettere di sbatterse nel cazzo se il pilfa più 05-5 fino a quando la crisi non sopraffondisce vengono licenziati, li dimezzano gli stipendi, li tagliano le pensioni e così via ma finché c'è anche Draghi che continua a proteggere l'Italia in maniera assurda è allucinante anche se la gente continua a dargli addosso non viene fuori, questa crisi non viene fuori e non c'è nessuna ragione per la maggioranza degli italiani di voler cambiare, di volersi adattare, di voler evolvere e di prendere le scelte anche scomone e breve ma più importanti per riuscire a mettere a posto una volta per tutte questo paese facendo delle riforme veramente importanti e strutturali non c'è nessuna spinta capite? capite? finché la bc ti protegge, finché puoi fare una patrimoniale finché puoi andare da qualcuno che ti dà assistenzialismo go go per avere consensi non c'è quindi è inutile io mi sto scandalizzando per cose che la maggioranza degli italiani non gliene frega un cazzo se gli parlassi del grande fratello sarebbero molto più interessati e li capisco anche perché per ora loro, se non per piccoli particolari non sentono particolarmente la crisi e il declino d'Italia lo sentiranno di brutto quando la crisi accelererà quando si supera un punto importante di non ritorno eccetera ma tanto anche una patrimoniale farà guadagnare 3-4-5 anni e sta gente continuerà a pensare alle cazzate è lenta, è lento questo declino non ce la fa a invertirsi perché è troppo lento e troppa gente vive mantenuta e per di più ideologicamente fuori dal mondo con un lavaggio del cervello pesante io non so spero di esserne spiegato però capite perché ho sempre meno voglia di fare video sbrocchi perché sinceramente è così la maggior parte della gente non percepisce questa cosa è come se io parlassi al vento a persone che se ne sbattano è più importante la ciclopista della produzione industriale che vi posso dire niente dai vado a rivedermi il bitcoin che ha sfondato i 6.000 punti e ha toccato i 6.350 che ciò cosa è più importante adesso almeno dai un caro saluto a tutti grazie a tutti